Yuuuuhuuuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhu buon bene non noi non noi no 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 ca e bho, bha! Renta, spegni, spegni... E fa dire poco Oggi torno dal lavoro e arrivo giusto giusto il corriere a consegnarmi a consegnarmi a consegnarmi insomma oggi siamo periuniti questa sera per un video speciale secondo voi cosa può essere successo di così speciale oggi sono tornato dal lavoro e il corriere mi ha consegnato un pacchettino cosa c'era dentro una cosa dir poco sensazionale l'uscita è prevista per il 23 novembre oggi è lunedì 14 novembre io stringo qui tra le mie mani una copia anzi la copia originale di pokemon moon moon perché l'ho ordinata su un sito che non pensavo me lo mandasse così prima e tra l'altro me l'ha mandato con copertina inglese ma la lingua italiana quindi adesso andremo ad unboxarlo e a vedere cosa comprende cazzo dopo mesi ce l'ho in mano e sapete qual è la cosa più tragicomica e ve lo dico dopo pokemon moon pokemon luna custodia standard a che mondo è mondo 3ds pokemon moon welcome to the world of the pokemon di starter qui abbiamo executor nella formale o questo piripicchio non so chi sia abbiamo questo qua insomma sembra veramente interessante il discorso allora una volta aperto è aperto anche posso ripetere la scena quindi no wait a moment please apriamo la la carta velina togliamo la mutanda di sicurezza e tokemo moon un solizzato da mettere apriamo con quelli custodia di moon intendo vi dota di un libretto con le pubblicità misteri d'angelo e ru dai ma chi se ne frega dai ma veramente sto parlando di sta roba questo foglietto è la pubblicità che vi dirà che vi danno mancelex che penso sia la formale ola di snorlax da gennaio basta fare di uno segreto quindi questa è la pubblicità poi c'è la pubblicità del playstation network del nintendo shop eccolo qui uh mamma quanta bella rubetta che stori terraria mario mario 3 attack from the monster crisi per le finissime ok insomma e cosa principale la cartuccia di pokemon luna ho voluto luna perché io gioco sempre di notte ma insomma ho voluto luna perché tutti vogliono sole io sono sempre diverso e quindi scome il giorno e la notte sono invertiti ho detto così posso vedere questo unboxing termina qui perché tutto sommato non c'è niente da vedere quindi ricapitolando non solo pokemon luna in anteprima e posso fare invidia a chiunque ma posso solo che ficcarmelo superi insomma non so come dirvelo perché non so come indorarvi la pillola che io giochi in anteprima non ho il ds non ho il 3ds perché ho ordinato il 3ds e come lo voglio io forse mi arriverà dopo del vero dei 1 del... cioè che cazzo me lo faccio? non ho ancora il 3ds e mi deve ancora arrivare finalmente io ho una cartuccia di film non so ancora farmi e trovate in mente però la cosa a poco non luna grazie ma... SPACCO CUSO! NIETTAAAAAAA! cane, corro 90 km più mi viene un cazzo davanti a sto computer di merda seduto come Welby tuo cane mi scoppia il cuore di sua madre troia tuo cane appestata dal morbo di Parkinson porco di... spero che il tuo cane li capiti di usare un frullatore e li parte il Parkinson il tuo cane si trivella la faccia porco di... grazie a tutti